Abbiamo deciso di implementare la videosorveglianza puntando sul centro storico, quindi tutta Corso Matteotti verrà videosorvegliata in maniera puntuale con delle telecamere innovative che permettono eventualmente di trovare le persone che sono responsabili di atti non consoni. Quindi non implementeremo solamente Corso Matteotti, ma queste telecamere ci permetteranno anche di videosorvegliare delle zone molto importanti della nostra città. Il sistema è collegato con la nostra centrale radio, per cui tutte le telecamere sono visibili tramite monitor dalla nostra centrale operativa e questo ci consente di monitorare sia i transiti, quindi la circolazione in generale, e sia di monitorare quelle zone di maggiore frequenza di persone. Le 18 telecamere che si aggiungono adesso con questo progetto ministeriale vengono tutte posizionate in centro storico. L'abbiamo definito un po' l'asse del Corso Matteotti, partendo dalla zona della liscia per monitorare sia proprio la circolazione nell'ambito della rotatoria liscia, sia il passeggio delle persone che transitano in Corso Matteotti. Poi l'altro sito ce l'abbiamo all'altezza di Piazza 20 Settembre, poi Piazza Costanzi e la rotatoria che definiamo del Cavour e quindi anche quel quadrivio dove effettivamente abbiamo una intensa mole di traffico. Là siamo partiti anche da quelle telecamere che si mettono solitamente sporadiche a Carnevale. Ne abbiamo visto l'elevata utilità e l'abbiamo estesa quindi anche come modalità permanente. Noi continuiamo a investire sulla sicurezza della nostra città, la videoserveglianza è uno strumento molto importante per oltre a controllare ma anche trovare eventuali responsabili, ma nei prossimi giorni presenteremo anche altre iniziative per dotare i nostri agenti di dispositivi di sicurezza personale nei loro confronti, quindi i famosi distanziometri e anche dotazioni innovative verso gli agenti di polizia locale, perché noi vogliamo degli agenti sicuri e che possono intervenire nei confronti di chi purtroppo non rispetta la legge.